Ciao ragazzi, in questo video vediamo come sia possibile far levitare un mappamondo. La levitazione è il fenomeno per cui un oggetto rimane sospeso nell'aria o nel vuoto senza bisogno di alcun supporto meccanico grazie ad una forza che contrasta quella di gravità. Nel caso del mappamondo che state osservando, all'interno del globo c'è un potente magnete che viene attratto in maniera opportuna da un elettrocalamita nascosta nella parte superiore del supporto. La forza così generata ha la stessa intensità della forza di gravità ma verso opposto ad essa, dunque ne contrasta l'effetto consentendo al globo di fluttuare nell'aria. Come potete vedere, se il globo viene messo in rotazione, continua poi a girare per molto tempo, visto che l'unica forza che si oppone a questa rotazione è l'attrito dell'aria che ha debole intensità a basse velocità. Inoltre, applicando una piccola spinta laterale, si nota che il globo tende a tornare spontaneamente nella posizione di equilibrio precedente e se inseriamo un foglio di carta o un qualsiasi altro oggetto che non interagisca con i magneti, il globo continua a fluttuare indisturbato. Per maggiori dettagli potete consultare il link qui sulla destra e come sempre, se vi piacciono questi esperimenti ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video.